Non bastano pochi secondi di silenzio per ricordare i problemi che stiamo vivendo. Silenzio. Perché tutto questo non fa rumore, non attraversare le barriere, non fa rumore. Nessuno parla, mentre milioni di dispositivi ne soffrono ogni giorno. Milioni di telepass oggi non hanno fatto bip e rimarranno in alto con le pile scariche sotto il sole attaccati ad un cruscotto. Adotta anche tu un telepass a distanza. Con solo un euro al mese gli garantirai non soltanto il sostentamento dell'abbonamento, ma anche cure amichevoli, considerazione. Con l'adozione a distanza permetterai ad un telepass e alla sua comunità di sentirsi ancora importante. Adotta un telepass a distanza. Regalami un futuro migliore. Regalami un futuro migliore. Regalami un futuro migliore. Grazie a tutti